Ehi la ciurma! Io sono Mezzetess e benvenuti in questo video un po' spiegazioni diciamo. Allora, come ho già annunciato ad Alessandro, ho un po' di grane diciamo adesso per la scuola perché sono in un periodo esami. Molto tosto, ho un sacco di cose da dare, un sacco di cose indietro da recuperare, un sacco di cose da studiare che non ho ancora iniziato a studiare. E ho davvero pochissimo tempo per qualsiasi cosa, compreso il canale purtroppo. E quindi ho dovuto fare una decisione forzata, cioè quella di mettermi oggi a registrare, oggi domenica primo febbraio. E sto cercando di registrare più episodi possibili, li farò uscire più corti, spero di riuscire a farli uscire di 10 minuti circa l'uno. In modo da garantire il più possibile episodi continuativi fino a metà febbraio. Poi non lo so, poi ci riaggiorneremo, ci risentiremo, succederà quel che succederà. Comunque, quindi mi voglio scusare se per caso questi episodi saranno più veloci, saranno magari meno elaborati e tutto. Però credo che questo fosse il miglior compromesso per cercare di venirci incontro. Nel senso, io ho poco tempo, quel poco tempo che ho, che oggi riesco a ritagliarmi per registrare, lo utilizzo adesso per registrare il più possibile e farvelo durare più settimane possibile, diciamo. Adesso spero di riuscire a fare per due settimane, magari anche tre settimane, non lo so. Vediamo. Detto questo, ciao ragazzi. Restate sintonizzati e se siete veramente della ciurma, non mollate e tenete duro come io cercherò di tenere duro durante questi esami. Ciao a tutti, buona giornata. Grazie. 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 Grazie.